primo dicembre la corona dell'avvento ogni domenica di avvento si accende una delle quattro candele della corona dell'avvento le candele simboleggiano gesù la luce del mondo che sta arrivando la leggenda delle quattro candele le quattro candele bruciano lentamente la prima dice io sono la pace ma gli uomini non mi vogliono preferiscono le armi e la guerra e poi si spegne la seconda dice io sono la fede ma gli uomini non interesso non hanno bisogno di me appena finisce di parlare la candela si spegne molto triste la terza candela dice io sono l'amore ma gli uomini non capiscono la mia importanza spesso preferiscono odiare e anche la terza candela si spegne in quel momento entra nella stanza un bambino e vede le tre candele spente ma cosa fate dovete rimanere accese io ho paura del buio e inizia a piangere allora la quarta candela dice non piangere finché io sarò accesa potremo sempre riaccendere le altre tre candele io sono la speranza con gli occhi rossi e lucidi il bambino prende la candela della speranza e riaccende tutte le altre ciao ciao